Ragazzi volevo fare rapidamente questo video perché la Serie A 2016-2017 è conclusa, Juve campione d'Italia, Roma seconda in una partita veramente mozzafiato con l'addio purtroppo di Totti, vi giuro ho pianto. Il Napoli che fa benissimo ma per un punto rimane terzo e quindi giocherà i preliminari di Champions, Atalanta quarta stagione indimenticabile quindi complimenti anche all'Atalanta, Lazio quinta, Milan sesto e Empoli, Palermo e Pescara retrocesse. E vi giuro non me ne voglio a quelli dell'Empoli, i tifosi dell'Empoli ma io ci godo, il Crotone ha strameritato di rimanere in Serie A, veramente un girone di ritorno con i controcazzi veramente. batte 3 a 1 la Lazio, nello stesso tempo il Palermo che secondo molti faceva il biscotto per far salvare l'Empoli e far retrocedere il Crotone, rende onore all'ultima giornata di Serie A, battendo l'Empoli 2 a 1, l'Empoli veramente che non meritava la permanenza in Serie A, non la meritava secondo me nemmeno tanto il Genoa, visto che avendo tutti i giocatori più forti a gennaio, poi è stata fortunata anche, diciamo, più fortunata che brava e nella scorsa giornata ha battuto il Torino e niente, quindi sono contentissimo che il Crotone sia rimasto in Serie A. Farò dei video nei prossimi giorni per quanto riguarda il mercato delle varie squadre oppure le pagelle, diciamo, delle varie squadre di questa Serie A. Io ora vi saluto, vi invito a seguirmi su tutti i social, metterò qua in descrizione tutti i social sui quali potrete seguirmi e ci vediamo per un prossimo video, ciao ragazzi!